Punto Insieme Sanità, due giornate per parlare e discutere di temi come prevenzione, qualità della vita e sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, partendo da un presupposto che prevenire è meglio e costa meno che curare. Prevenire sicuramente costa meno, noi siamo contenti di partecipare a questa iniziativa, noi da sempre confederanziani come società scientifica CARD abbiamo partecipato a queste iniziative su temi a noi molto cari. Fare prevenzione oggi è importante, è importante investire sul territorio, quello che stiamo cercando ormai da anni di dire alle istituzioni, le istituzioni si sono mosse in tal senso perché prima gli investimenti erano solo ospedalieri, in questi ultimi anni, anche se era previsto un X per cento che era il 5 per cento per quanto riguarda la prevenzione, molte volte non era sfruttato al meglio, adesso grazie anche agli indicatori della griglia LEA ci sono alcuni indicatori che devono essere assolutamente raggiunti dai direttori generali, in questo caso parlo degli screening, parlo delle vaccinazioni, sono momenti fondamentali, in questo noi crediamo molto nel lavoro che deve essere fatto a livello distrettuale con la presa in carico del paziente, paziente che non sia già un utente e non un paziente, in modo che possa essere presa in carico dal distretto in un primo momento, quindi messo a carico del sistema sanitario nazionale e guidato lungo i percorsi diagnostici terapeutici. Ecco, quanto è importante la consapevolezza del paziente sul fronte appunto prevenzione e diagnosi prevenzionali? E questo è l'altro momento fondamentale che dobbiamo lavorare, dobbiamo lavorare sull'empowerment del paziente, quindi far capire quanto è importante la prevenzione con campagne pubblicitarie, formando proprio i cittadini, i care giver che assistono i nostri utenti, quindi l'importanza è fondamentale, comunicazione che deve essere fatta a rete, cioè deve essere fatta da tutti gli attori che sono presenti sul campo, parlo della parte medica, della parte infermieristica, parlo degli ordini, è importante anche il ruolo dell'ordine dei medici, degli infermieri, che possono fare squadra compatta per una campagna di informazione che sia sempre più diretta a far capire quanto è importante la prevenzione ai nostri concittadini. Ecco, su questo, Senior Italia sta portando avanti il progetto Senior Care, con l'apertura di veri e propri studi medici e programmi di screening per monitorare lo stato di salute degli over 60 e anche per scovare eventualmente patologie nascoste. Cosa pensa di un progetto come questo? È un'ottima iniziativa, anche noi come CARD siamo stati interpellati, è un momento fondamentale, è quello che dobbiamo fare assolutamente con queste, queste possono essere delle iniziative che possono logicamente giungere fino in periferia, in periferia e cercare di avere delle visite preventive importanti che possono far accendere purtroppo in alcuni casi dei problemi di salute che poi possono essere quindi preventivamente curati.